Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati qui sul mio canale quest'oggi come potete vedere dalla postazione ma soprattutto dal titolo ritornano i multi-unboxing era, pensate, da novembre dell'anno scorso che non ne facevo uno incredibile ma vero, è passato veramente una vita, di conseguenza ci sono tante cose da farvi vedere ma soprattutto tanti giochi di cui parlare, di cui darvi qualche impressione perché comunque il multi-unboxing è un'occasione sì per aggiornare la mia collezione quindi di farvi vedere quello che ho acquistato ma anche un'occasione per parlarne quindi per dire due parole magari proprio velocissimamente sul gioco in questione alcuni li avete già visti, di alcuni ho già parlato di alcuni addirittura ho già fatto il video però vabbè questa volta è andata così mi sono un po' dilungato eccessivamente per quanto riguarda il video acquisti dovevo farlo probabilmente qualche mese fa però è andata così allora direi di iniziare subito perché qua sopra questa mia mansarda spettacolare fa tipo 32 gradi credo quasi la temperatura che c'è fuori quindi ogni tanto mi fermerò, berrò da questo amaro calice e niente direi di cominciare acquisti che saranno divisi più o meno per piattaforma quindi partiamo da Play 3 e partiamo da questo titolo qua non vi leggo quasi neanche il titolo perché è talmente lungo vabbè Damage Inc. Pacific Squadron World War II allora titolo particolare disco ovviamente staccato perché l'ho acquistato innanzitutto è un titolo ambientato nella seconda guerra mondiale come sapete tra l'altro c'è la custodia rotta vabbè titolo ambientato nella seconda guerra mondiale titolo di aerei titolo che che bel libretto bianco e nero però bello corposo titolo che ho solamente provato a dire il vero mi incuriosiva più che altro visto il prezzo 3 euro e era uno di quei giochi che la catena GameStop aveva messo in vendita tra gli 1 e i 3 euro io speravo di trovare la versione con la cloche non c'era ho trovato questa qua liscia e l'ho comprato l'ho anche provato e forse sfortunatamente perché non è propriamente quel gioco clamoroso diciamo che forse quel War Thunder su Play 4 anche se è un free to play risulta essere migliore rispetto a questo Damage Inc più che altro a livello tecnico è un titolo molto scarno non è propriamente un titolo intuitivo però me lo sono trovato lì a 3 euro e ho voluto dargli una chance però ripeto l'ho provato poco però diciamo che vabbè forse era più uno sfizio che altro mettiamola così allora qua proseguiamo invece con un titolo ottimo perché stiamo parlando di Biohazard HD Remastered sostanzialmente ovviamente Resident Evil questo è vedete la versione giapponese del remake del primo Resident Evil Resident Evil di Mikami allora apriamo c'è poco e niente nel senso che c'è il disco di gioco ovviamente qua i libretti quelli giapponesi che sono diversi dai nostri beh lì dietro c'è un codice che vedete cosa i giapponesi hanno queste robe qua dentro questi fogliettini piccoli con merchandise vabbè e perché l'ho preso in questa versione qui allora innanzitutto perché il gioco è multilingua e parte in italiano ce lo mettete nella Play 3 il gioco è in italiano nonostante le scritte e quant'altro e poi perché volevo averlo fisico questa che è qua di CHD Remaster ma è comunque il remake di Resident Evil che era uscito se non erro in origine per Gamecube questo dovrebbe essere praticamente il porting di quella versione là è uscita anche per Play 4 solo in versione digitale io volevo averlo fisico e di conseguenza l'ho recuperato su Ebay ovviamente l'ho pagato di più rispetto alla versione digitale però volevo averlo fisico perché è il primo Resident per Play 1 non ce l'ho fisico quindi almeno avere il suo remake insomma diciamo che era era una cosa gradita ecco per quanto mi riguarda almeno non l'ho ancora provato l'ho solo messo su ho visto che partiva in italiano quindi ho detto ok il venditore aveva ragione però non l'ho ancora giocato probabilmente lo farò appena avrò un attimo di tempo e appena mollerà un attimo il caldo perché veramente siamo a livelli allucinanti allora proseguiamo con faccio vedere l'unico gioco per pc che poi è una è una trilogy potremmo definirla infatti è una trilogy ed è la Need for Speed Collector Series che sono praticamente forse i tre Need for Speed più apprezzati l'Underground l'Underground 2 e Most Wanted ovviamente quelli della Play 2 li vedete sono per pc anche qua acquisto effettuato perché sempre una collezione che faceva parte di quei giochi dall'1 ai 3 euro questo mi pare fosse a 1 euro quindi pensate 33 centesimi a gioco praticamente vabbè c'è poco da dire non so neanche se aprirveli insomma sono però belli sono tutti prima cioè la copertina sono quelle della prima serie quindi tra l'altro molto belli quasi quasi mi verrebbe da tenerli sigillati questi qua forse mi dovevo tenere sigillato tutto però vabbè ormai li ho aperti e vabbè questi non li apro neanche non so neanche se li rigiocherò mai sono tutti titoli che ho giocato all'epoca su play 2 titoli che ho apprezzato parecchio faccio meno di dirvelo e non lo so magari in un periodo di magra o così potrebbe essere un'occasione anche per magari rigiocarseli visto che sono ripeto tre tra i capitoli probabilmente migliori della serie se non addirittura i migliori bevo e proseguiamo proseguiamo con l'unico gioco per playstation vita non è un'esclusiva playstation vita in realtà perché questo titolo è uscito praticamente per tutte le piattaforme stiamo parlando di the wolf among us che ho recuperato in questa versione ovviamente americana perché qua da noi non è mai uscito per play vita sto impappinando la cartuccia non c'è perché dovrebbe proprio essere dentro la console credo il gioco credo sia in inglese ma credo sia in inglese anche per le altre piattaforme se non erro a parte che io non ho particolari problemi anche a giocarmeli in inglese i giochi anche qua ho trovato un ottimo prezzo non mi ricordo esattamente quanto l'ho pagato ma era veramente poco anche qua su ebay e ho detto cavolo lo prendo l'ho preso per vita perché comunque come il the walking dead titolo precedente della telltale ho detto cavolo almeno sfruttiamo un attimo vita per questi giochi visto che col touch effettivamente risultano forse più intuitivi che con un pad e quindi ho detto recuperiamolo per play vita non ho detto il prezzo di resident evil perché non me lo ricordo ripeto un po' di più della versione digitale ma non troppo se non erro calcolate comunque che c'era la spedizione dal giappone o da dove veniva non mi ricordo quindi però ripeto per avere comunque la versione retail li ho spesi volentieri e the wolf among gas anche qua non ricordo esattamente il prezzo purtroppo sono acquisti che ho fatto forse addirittura a marzo quindi o poi sono di memoria corta quindi figuriamoci se riesco a ricordarmi ste robe allora proseguiamo allora vediamo come riesco a inquadrarlo la morte proprio la morte allora questa qua come potete vedere notare dalle dimensioni e anche guarda che schifo e anche dalla polvere che c'è sopra è la collectors edition di call of duty ghost però per xbox one perché l'ho acquistata non che mi fregasse troppo né del gioco ovviamente è per xbox one né di questo braccialetto né della collectors in sé ma questo don dio per il prezzo che costava mi pare 20 euro vediamo se riesco tra l'altro a beh non si vede niente poi alzerò la telecamera mi interessava per un gadget che era incluso adesso lo vado a prendere ovvero questa questa è una videocamera vediamo se riusciamo su apri non c'è niente no c'è tutto questa è la videocamera che era inclusa nella limited nella collectors di call of duty ghost sia per play 4 che per xbox one forse anche per pc è una vera e propria videocamera questa vedete questo qua è l'obiettivo e quant'altro tra l'altro si può agganciare questi supporti ecco vedete si può agganciare non so il manubrio di una bici di una moto si può agganciare un po' dove si vuole ha un elmetto da soft air e quant'altro ripeto l'ho pagato 20 euro perché comunque è una videocamera che registra in full hd ha dei problemi di microfono perché vedete il microfonino è quel puntino lì quindi avevo fatto anche una prova di registrazione però al momento non ho idea di dove sia finito il file quindi scusate se non ve la metto mi ricordo che Xander forse aveva fatto una prova di registrazione tra l'altro è partita panico totale spegniti bastarda niente va bene va bene così è partito il timer adesso si autodistruggerà comunque ripeto più che altro adesso lo poggio qua sopra poi farò una panoramica con il letto che ho preso per il prezzo e per quella videocamera lì che poi avrei volentieri passato mio padre che lui gira molto in bici e ho detto magari puoi agganciartela così l'ha usata una volta e non si è trovato particolarmente bene poi non l'ha più usata però vabbè questi sono dettagli quindi più che altro è recuperata per il prezzo fosse stata per play 4 vi dico la verità il gioco probabilmente mi avrebbe interessato talmente poco che non l'avrei neanche giocato era proprio per la videocamera insomma allora passiamo a questo è un recupero per play 1 pensate però sinceramente non potevo non averlo in collezione non è tenuto egregiamente però i suoi anni li ha stiamo parlando di Metal Gear Solid il primo Metal Gear Solid facciamo vedere un attimo se non erro manca manca qualcosa infatti no ah questo qua ce l'ho aggiunto io che non c'entra infatti mancherebbe la la demo di Silent Hill credo si e niente è Metal Gear cioè non c'è molto da dire semplicemente a livello collezionistico lo volevo ripeto l'ho pagato anche poco perché mancava la la demo di Silent Hill l'ho chiuso bene si però volevo averlo in collezione quindi ho detto amen nel senso lo voglio e quindi ho trovato anche un prezzo ragionevole l'ho preso allora poi 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 proseguiamo vabbè con un piccolo extra so che molti li detestano non capisco bene perché altri li adorano la follia io ne ho preso uno e vi dico si sono carini però non so se ne prenderò altri stiamo parlando dei questi affarini qua dei Funko Pop come vedete ho preso un personaggio di Assassin's Creed ovvero il il dottore della peste che è questo qui come vedete sono questi come le possiamo chiamare action figure neanche figuri quelli chiamano figurina di vinile figurina figura di vinilo vabbè e niente ho preso questo perché mi piaceva proprio il personaggio e tra l'altro forse l'avrete visto in qualche video in un angolino la vediamo se ci sta qua ok niente questo qua era più che altro uno sfizio per capire come erano fatti questi affari perché non ne avevo mai preso uno questo testone qua e si insomma non è che siano proprio il massimo a livello di qualità c'era qualche sbavaturina non so ecco qua c'è un piccolo problemino sul cappello insomma costano una ventina d'euro facciamo in modo che si veda era più che altro per vedere come mai il successo clamoroso di questi affari che ormai vendono un po' dappertutto volevo un attimo capire come erano fatti sì non è questa roba clamorosa però posso capire comunque il perché il perché piacciono ecco non mi fanno impazzire però ripeto magari qualcuno negli anni potrei anche recuperarlo chi lo sa allora bevo e due passiamo ora ai titoli play 4 allora teoricamente li conoscete tutti sono già giochi che ho mostrato tranne uno e quindi su alcuni farò proprio una rapidissima carrellata allora partiamo con i primi tre The Order 1886 l'avrete già visto ne ho già parlato c'è l'unboxing della Collector sul canale quindi non mi dilungo più di tanto Ride Ride titolo di moto ecco di questo forse non ho mai parlato in un video ma vorrei parlarne titolo di moto fatto dalla Milestone titolo che mi ha ricordato tantissimo il buon vecchio Tourist Trophy per Play 2 ogni gioco di moto stradali e da pista c'è la carriera tutto quanto non sarà di certo il capolavoro dei giochi di guida e quant'altro ma fa il suo sporco lavoro quindi è un titolo che comunque mi ha divertito se non fosse stato per un trofeo buggato l'avrei anche platinato mannaggia loro e è un titolo interessante se vi piacciono le moto dategli una chance perché magari non a prezzo pieno adesso sarà già calato perché è uscito a marzo mi pare però ripeto è un gioco che mi ha divertito mi ha divertito online ci sono i soliti che sportellate qua e là però è un titolo che è un giusto mix anche tra simulazione arcade puoi impostarti tu il livello di difficoltà di sfida bello mi è piaciuto parecchio vabbè che scemo non vi ho fatto vedere cosa c'è dentro vabbè cosa volete che ci sia il disco e un pezzo di cartigenica e un disco e un foglio blu e ok quindi niente di che vabbè i prezzi vabbè the order prezzo pieno e ride l'avevo pagato mi pare 50-45 euro non ricordo al day one grazie alla promozione di un utente su ebay che faceva questo tipo di prezzo sul preorder poi grand theft auto 5 anche qua ne ho già parlato per play 4 preso perché comunque avevo voglia di rigiocarmi il buon gta 5 infatti il disco è ancora là vicino alla play 4 mi sono rigiocato l'intera storia bella come sempre con i suoi difetti ne ho già parlato in un video dedicato quindi non mi dilungo e abbiamo avuto modo di giocare le rapine quindi la novità che è stata aggiunta per quanto riguarda il ruttino per la coca cola per quanto riguarda grand theft auto online quindi le rapine parlerò magari delle rapine in un video dedicato comunque sono parecchio gradevoli ma purtroppo sono veramente poche e questo è un problema anche perché rockstar aveva promesso ne arriveranno altre ne arriveranno altre buio totale e non si sa nulla neppure dei dlc del single player di gta 5 che fine hanno fatto sono in programma sì no state già pensando a gta 6 non si sa probabilmente finché vendono il gioco base a loro non conviene fare le espansioni quando magari le vendite cominceranno a calare bam ridanno l'infa vitale al prodotto con i dlc e loro comunque tirano l'acqua a loro mulino si sa quindi da un certo punto di vista ma anche bene così ma anche no allora prendiamo altri tre titoli allora due titoli dai play 4 project cars ecco vi ricordate quello che ho detto per ride qua ribaltate la situazione è un gioco di auto gioco di auto simulativo prodotto dalla slighty mad studio se pubblicato da namco bandai anzi bandai namco che hanno ribaltato esperienze di guida senza pari si sfortunatamente negativo però perché io pensavo che fosse un titolo molto valido così si è rivelato essere un titolo con dei pregi si ma con tantissimi difetti anche molto 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 gravi ne parlerò in un video dedicato tra l'altro hanno annunciato già project cars 2 in maniera abbastanza vergognosa ancora col sistema kickstarter se raggiungiamo gli 11 milioni mi pare non si stanno comportando bene tra l'altro prometti dlc gratis e poi sono a pagamento insomma è un gioco che ha veramente tanti tanti problemi la carriera alcune modalità di guida alcune auto sono veramente inguidabili un lato tecnico fatto di alti e bassi un online che è una cosa secondo me inaccettabile e poi come dicevo la storia di dlc oltre rincarando la dose all'annuncio del secondo quindi è un titolo che mi ha deluso però ne parlavo anche con gli altri ragazzi ne abbiamo parlato anche in un live sembra quasi che abbia deluso solo noi anche se poi in realtà vai a vedere sui forum l'annuncio del 2 così e tanti si lamentavano del primo quindi c'è stato un po' un ribilanciamento dei giudizi su questo gioco non lo so perché gli davano tutti 9 e mezzo poi adesso perché inizialmente questa roba la voglio dire sembra quasi che tutti i giochi siano bellissimi 9 e mezzo così poi più passa il tempo più a volte il giudizio cambia non so se ci avete basato su certi giochi è successo anzi su tanti giochi succede esce il gioco bellissimo meraviglioso dopo un mese dopo ma però c'è quel difetto due mesi dopo c'è un altro difetto sei mesi dopo era una merda non è proprio così con tutti però spesso capita e io ho visto a livello non voglio generalizzare però insomma ho visto parecchi giudizi su project cars cambiare nel tempo quindi non lo so però ripeto avrò modo di riparlarne vabbè anche qua non vi faccio vedere cosa c'è dentro un altro pezzo di carta e il disco poi altro titolo Wolfenstein The Old Blood prequel stand alone di Wolfenstein The New Order ho già fatto un video dedicato quindi non mi dilungherò troppo espansione gradevole un prequel il protagonista è sempre William J. Blaskovic siamo nel 1946 poco da dire titolo che mischia spy story Indiana Jones e i soliti combattimenti frenetici dell'ultimo Wolfenstein in maniera perfetta ottima durata ottimo prezzo direi che non c'è altro da dire allora prima di arrivare agli ultimi due titoli diciamo includono l'inedito tra l'altro vi parlo un attimo dei DLC acquistati o comunque degli acquisti in digitale fatti ci sono i tre DLC di The Evil Within quindi The Assignment The Consequence e The Executioner potevano tra l'altro in italiano vabbè quindi i primi due con protagonista Julie Kidman quindi con una storia in realtà che è parallela alle vicende principali del gioco DLC molto belli approfondiscono il personaggio di Julie Kidman ma non solo quindi sono due DLC non dico fondamentali però ampliano comunque veramente l'esperienza e il mondo di gioco se avete apprezzato The Evil Within io ve li consiglio proprio caldamente invece il terzo The Executioner è un gioco diciamo nel senso che non dico uno scherzo ma quasi perché è una storia completamente slegata interpreteremo il custode il tizio con la cassaforte sulla testa ma non è il custode che abbiamo incontrato noi è un altro custode cioè diciamo che è un personaggio connesso allo stem che ha assunto le sembianze del custode per compiere una particolare missione che non vi sto qua a dire ripeto l'ultimo è una cosa particolare tra l'altro gioco in prima persona addirittura gli altri due invece sono qualcosa di più inerente al gioco tra l'altro molto più stealth rispetto al gioco di base perché The Assignment è totalmente stealth e il The Consequence è metà stealth e metà action o comunque poi ti dà un minimo di libertà di approccio belli comunque per chi ha amato il gioco li consiglio caldamente perché sono DLC veramente fatti bene ripeto l'ultimo quello del custode è un extra se volete comprarlo bene se no secondo me è totalmente inutile cioè anche qua parla ancora di più può ampliare un attimo il mondo di gioco quello che viene detto nel gioco di base però non è fondamentale ecco questo è il mio giudizio allora 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 siamo arrivati quasi alla fine ah vi dico un altro acquisto digitale che non è un acquisto c'è Drive Club è uscito finalmente la versione del Playstation Plus dopo quanto ritardo un anno e mezzo e ho avuto quindi occasione di provarlo ed è un gioco che mi ha incredibilmente sorpreso in positivo cioè rispetto a un Project Cars dal quale mi aspettavo Mario e Monti e poi si è rivelato una delusione per quanto riguarda Drive Club io provai secoli fa la versione iniziale del gioco e mi deluse tantissimo ho detto ah sta roba qua non la comprerò mai così è uscita la versione Plus ed effettivamente il gioco è stato notevolmente sensibilmente migliorato in tutto e per tutto e vi dico solo una cosa perché arriverà un video io mi ci sto divertendo e fondamentalmente in un gioco secondo me di guida dovrebbe essere forse la cosa fondamentale di certo non avrà la customizzazione non avrà chissà quale varietà e quant'altro ma al momento mi ci sto divertendo la versione Plus sarà tutta bloccata quello che volete però ripeto a me al momento non pare così male cioè l'hanno sistemato parecchio ci hanno fatto veramente del lavoro quindi valutarlo per quello che è adesso ripeto sono rimasto positivamente colpito al momento però e questo potrebbe poi portarmi a riflettere sull'eventuale acquisto di una versione fisica del gioco completa visto la mole di DLC speravo uscisse una sorta di gothi edition o complete edition così al momento non hanno annunciato nulla quindi credo potrebbe non uscire mai però vedremo questo per quanto riguarda il futuro non sappiamo cosa ci riserva quindi ne parleremo al momento debito allora siamo arrivati quasi in chiusura sì siamo arrivati quasi in chiusura e qua parliamo di un gioco del quale in realtà ho già parlato nel vlog del mese sul canale di GameLight però magari alcuni di voi non l'avranno visto quindi ne riparlo volentieri comunque stiamo parlando di Bloodborne titolo di From Software primo gioco della serie Souls anche se non è della serie Souls però è sempre fatto dalla stessa Software House primo gioco ripeto al quale mi sono approcciato titolo che mi ha positivamente colpito vabbè non c'è niente dentro salvo l'immagine di retro copertina che poi è una copertina alternativa anzi di base parte con quella grigia chiara però a me piaceva più questa qua grigia scura vabbè e a parte questo allora il titolo mi ha positivamente colpito nel senso che soprattutto il mondo di gioco molto affascinante lato tecnico stracurato gameplay un pelino legnosetto all'inizio ma poi ci si fa la mano quindi è un gioco che comunque prende boss che hanno il loro perché nemici schemi difficili e quant'altro quello che mi ha un po' meno colpito ed è un problemino che ho riscontrato è il discorso del farming quindi del dover praticamente a ogni morte soprattutto contro i boss dover ripercorrere magari con un backtracking eccessivo le stesse vie per prendere gli ecchi del sangue andare a comprare molotov kit medici proiettile e quant'altro poi torna a riaffrontare il boss i nemici che trovi in giro magari corri e riesci ad evitarli però questa ripetizione di questa attività del farming sinceramente mi dà un pelino fastidio e rallenta troppo il gioco perché il gioco secondo me non è così difficile proibitivo e ostico come molti dicono almeno per quanto mi riguarda non lo è poi anche qua sono giudizi personali più che altro ripeto questa cattiveria diciamo nel volerti continuamente far farmare farti fare diciamo la stessa cosa tante volte per riuscire a riacquistare consumabili è questo che mi dà più cioè è qua che il gioco è bastardo non tanto nella difficoltà quanto in questo aspetto per quanto mi riguarda poi non mi dà fastidio il fatto magari di non sapere esattamente dove andare questo mi piace perché comunque fa parte della sfida però questo aspetto del farming insomma poteva essere secondo me gestito in maniera diversa un ultimo appunto per quanto riguarda Bloodborne tanto poi una volta che l'avrò finito ne parlerò in un video non capisco come mai Bloodborne piaccia così tanto proprio per la sua difficoltà ma questo aspetto in altri giochi non viene tenuto in considerazione cioè sembra quasi che Bloodborne o la serie Souls siano gli unici abbiano il privilegio della difficoltà cioè questi vengono comprati quasi esclusivamente proprio per la sfida per la difficoltà che ripeto a me comunque non sembra così proibitiva ma questa non è un'opinione personale mentre invece in altri titoli si cerca l'esatto opposto cioè Bloodborne più difficile è o più all'apparenza diciamo difficile è meglio è altri giochi chi se ne frega anzi più facili sono meglio è cioè non capisco perché la moda della difficoltà ormai si parla a mode abbia colpito solo Bloodborne ossia esclusiva della serie Souls cioè perché gli utenti non ricercano la difficoltà anche in altri giochi ma anzi ripeto più semplificati sono meglio è meno tramanno meglio è più semplici sono meglio è in Bloodborne invece diventa quasi l'esatto opposto più difficile è meglio è non riesco a capire il perché cioè uno si aspetterebbe dice cavolo Bloodborne fa da precursore al ritorno della difficoltà di conseguenza il pubblico ricerca la difficoltà invece non è così e non riesco veramente a capire il perché anzi certi titoli vengono penalizzati per una presunta eccessiva difficoltà Evil Within Alien soprattutto alcuni survival ma non solo non riesco a capire poi perché la serie Souls invece viene apprezzata proprio per questo motivo magari provatemi a provate a dirmelo anche voi se avete un'idea a riguardo perché non riesco proprio a capire il perché forse perché la serie Souls è un po' una serie di quelle intoccabili che è diventata di moda quindi è legittimo che abbia questo aspetto qua magari altri titoli che non hanno ancora raggiunto lo status di gioco di moda se sono difficili fanno schifo o li mollo dopo un'ora non lo so ditemelo voi magari se avete un'opinione a riguardo allora siamo arrivati all'ultimo titolo che è il vero inedito del video bevo e tre allora ho un titolo acquistato una vita e mezza fa un titolo per play 4 che ho comprato grazie a un'offerta mi ricordo se fosse un 3x2 o un compri un gioco il secondo lo paghi 5 euro una cosa del genere al GameStop ovviamente ah non vi ho detto i prezzi di quasi nessuno di questi giochi vabbè GTA mi pare più o meno prezzo pieno Project Cars mi pare 55 euro al day one grazie sempre al solito utente su ebay The Old Blood costava 20 euro Bloodborne 30 euro usato dicevo il gioco pagato ho mangiato un moscerino qualcosa quante difficoltà tecniche un gioco pagato una ventina d'euro forse qualcosina di meno proprio grazie a questa offerta qua che ho fatto con alcuni amici era un gioco che costava 40 euro adesso forse è già calato 30 stiamo parlando di e voi dite l'Ara Croft esatto è il Tempio di Osiride in questa Gold Edition vediamo se riesco a inquadrarlo no qua c'è un caos totale comunque poi farò una bella panoramica conclusiva è appunto la Gold Edition di questo gioco spin off di Lara Croft la cosa che mi ha colpito è questa vediamo se mette a fuoco esatto 1-4 giocatori in locale quindi si può giocare fino a 4 sulla stessa Play 4 ed era una cosa che mi aveva colpito infatti ho detto vai che lo giochiamo tutti quanti come vedete era ancora bello sigillato perché in realtà poi non ho avuto l'occasione giusta per giocarlo molto semplicemente quindi è stato un acquisto non dico in cauto perché comunque il gioco vediamo di se riusciamo a lasciare la plastichetta si qua sto facendo del gran casino dicevo vediamo se riusciamo a giocarlo in co-op in locale quant'altro e poi non ho mai avuto la vera occasione di farlo però vabbè capita allora come si apre si apre in questo modo ok allora ci troviamo di fronte a statuina non so come definirla action figure di Lara ok vabbè la lascio nella sua plastichetta poi questo credo sia una specie di artbook sì dimensione un po' strano sì è della stessa dimensione di un gioco praticamente sì un piccolo artbook non male c'è una pergamena che non sto ad aprire però è fatta c'è un effetto particolare un cartoncino strano poi il gioco aperto non ha la plastichetta però da non vendersi separatamente ecco vabbè qua c'è un codice che become inclusive vabbè se volete ve lo regalo prendetelo pure un libretto no ah c'è incluso il season pass questo non ve lo faccio vedere il codice che è dietro qua ok e poi vabbè il disco di gioco niente di che questo è un gioco ah ok perché io io avevo visto in negozio la versione standard perché io pensavo esistesse solo questa qua col cartoncino no invece lo vendono anche diciamo scatolato stand alone così e aveva la spalla con la scritta rossa e non si vedeva mentre invece qua è dorata potremmo definirla sì e quindi si riesce a vedere allora momento calma e sangue freddo anche se ci sono 32 gradi adesso cerco di rimettere tutto insieme visto che siamo arrivati alla fine no non proprio alla fine vabbè questo è un extra nel senso che stiamo parlando di Rainbow Six Siege ovviamente non è il gioco ma questa qua è una roba che mi ha andato perché ho prenotato la beta cioè ho prenotato la beta ho prenotato il gioco e ho mandato la la chiave per la beta ce l'avevo lì quindi io l'ho aggiunto al volo allora calma e gesso adesso cerco di riassemblare un attimo la postazione e poi faccio una panoramica finale e aggiungo i saluti ovviamente allora eccoci qua panoramica finale quindi ricapitolando abbiamo la dietro la Collector's Edition di Call of Duty Ghost per Xbox One Metal Gear Solid il primo per Play 1 la trilogy dei forse migliori Need for Speed usciti per PC Wolf Among Us per Vita un paio di giochi Play 3 tra i quali il remake di Resident Evil 1 carrellata di giochi Play 4 il Funko Pop del Dottore della Peste e ovviamente la Collector's la Gold Edition vabbè di Lara Croft e il Tempio di Osiride volevo farvi vedere un'ultima cosa quindi ritorniamo qui sul tavolo un attimo perché al GameStop mi hanno dato sostanzialmente un'eccedenza di copertine dei giochi per Play 4 ci sono praticamente quasi tutti sono quelle copertine che di solito vedete esposte e sostanzialmente quelli rimangono lì e gliele ho chiesto ho detto ma non è che riuscite a darmene qualcuna si si qualcuna me le andate praticamente tutte guardate sono forse tutte le copertine di tutti cominciano a cadere di tutti i giochi usciti finora su Play 4 credo non vorrei dire una scemenza ma c'è veramente di tutto ho visto quella di The Last of Us Infamous e niente era una roba così un piccolo extra che volevo mostrarvi io sono un po' un feticista di ste robe qua del il marketing recupero cartelloni poster roba così quindi insomma gentilmente sono riusciti a darmeli quindi li ho accettati più che volentieri bevo quarta e ultima volta dio buono che caldo niente ragazzi a questo punto direi che possiamo salutarci questo era l'unboxing degli acquisti primavera estate 2015 forse anche precedenti in realtà perché c'è un pezzo d'inverno a cavallo dell'anno e niente spero che questo video sia stato di vostro gradimento e che abbiate apprezzato lo sforzo abnorme ho sudato sette camicie anche se indosso una canottiera però c'è un caldo veramente tremendo sono incollato adesso mi sa che vado a farmi un tuffo in piscina grazie per la visione ci vediamo al prossimo video un saluto a tutti alla prossima ciao ragazzi